fare una faccia brutta il rumore molesti ciao a tutti lei lei ciao la mia amicona e oggi facciamo il best friend solo per voi iniziamo con la prima domanda giornate complanno 25 maggio 1998 15 aprile prima l'avevamo beccato poi con la seconda domanda nome dei genitori si vuole Maurizio Paola e Daniele dembrizio dembrizio ti piace si ma preferisco la pizza cioè se preferisci il sushi alla pizza patriottica sei patriottica sei patriottica e tu invece non lo so neanche io allora lo dirò io per te lo scelgo io cos'è che mangio sempre le schifezze esatto le schifezze le mangio le schifezze il sushi ho preferito solo le schifezze le schifezze di vario genere ho specificato ma viva le schifezze the top e sport flop allora tu fai danza flop sarà un gioco con la palla quindi tipo pallavolo no no pallavolo sembra anche abbastanza bravo basket calcio 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 Scooby-Doo! Adesso vi racconto cos'è lo Scooby-Doo e come ci siamo conosciuti. Esatto, soprattutto che cos'è? Conosciuti. Conosciute. Siamo maschi. Allora, come ci siamo conosciuti è la parte più importante di questa storia d'amore. Molto vero. Allora, lo Scooby-Doo è praticamente tipo l'asilo, quello per i bimbi piccolissimi. Il nido. Ma non è proprio un nido, è tipo dove vanno i bambini a giocare. Sì, non era proprio un nido. Però era tipo una sala giochi per bambini piccoli. Esatto. Dove c'era il pongo. Il pongo. Questo pongo è molto importante perché... Grazie a questo pongo! Allora, c'era lei dentro questa casina di plastica con le piccoline dei bimbi. E un tavolino e con il suo pongo azzurro lì che... Era azzurro? Sì, me lo ricordo, te lo giuro era azzurro. Era lei che stava giocando con questo pongo e ha detto No! Nonna, anch'io voglio giocare col pongo! Allora sono corsa là e ho preso il pongo in mano. Ma questa qua... Mi ha tirato un cefone della madonna! E io non volevo che giocasse col mio pongo! E quindi mi ha tirato un cefone! E niente, da lì separabili. Ma io nonerò problema. Zimbrenziuu… Zimbrenziuuuuuu! Zimbrenziiiiiiiiiiii! Zimbrenziuu! Zimbrenziuuuuyymmm! Persona che odia Eh, questo lo posso dire pubblicamente Chi è che odi Non lo so Di tipo un nome in codice Che faccio più o meno capire Tipo Quando uno sporca di Vabbè, però loro non lo capirebbero Però io so che è quella persona che Di sporca è dato un nome anche a un bello Misare Idolo, allora Il mese di novembre Preannuncia che il tuo idolo Sarà quello che c'era Allo skip us il 31 Però L'idolo del mese scorso Era Michele Mavi Esatto Questo mese sono i Marnik La cotta del mese Che era così E Marnik E tu Non hai idoli Cioè, ascolta musica e basta Poi, poi Lavoro dei sogni Allora, lei è doppiatrice Perché io può Io? Mi ha rivelato che non ha Proprio il lavoro dei sogni Però, secondo me Secondo la mia esperienza Da best friend Lei potrebbe fare tipo Uno di quei piccoli chimici Che vanno tutti Perché lei fa chimica Ma a me non mi piace chimica Però No, secondo me Tipo Ma io ad analizzare Tutte quelle cosine Fighe Tutte quelle cosette lì Quei colori Sì Sono colorate più belle Esatto Voi far Youtuber Preferito Sì Allora Fino al mese scorso Era Michele Mavi Questo mese Ma sì Più o meno Pavi J Assolutamente Subito Pavi J Francesco Sone Cecilia Gretta Menchi E se No Non sono youtuber Quelli che vanno e vengono E fanno libri Cioè In realtà si ha fatto libri Ma non l'ho mai letto Ma non l'ho leggero Taglia questa parte E Però È se È una cosa semplice Perché La Clio Sì La Clio Sì Oddio ma è la Clio Sì Vembrinzio 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 Ok Sfondo del telefono Allora il suo È Marnic Quello lì Di questo mese Il mese scorso Era ovviamente Michele Mavi Ad ogni gusto Cambiato ovviamente Lo sfondo Cioè Ogni mese Cambio sfondo Esatto No davvero Ogni mese Cambio sfondo Sì Sfondo Blocco Schermo Sfondo 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 Dei messaggi Sfondo Sei la persona Che sfonda Invece Suo sfondo È Lei E il suo Boy Gnie Gnie Ora Ah Ora della nanna Ho scritto La Cecilia Non si regge niente Ora della nanna Allora Lei va a letto tardi Sì Cioè Non so Non era preciso Però tardi Sì Più o meno Tipo Verso No Una Durante scuola Vado a letto Mezzanotte e mezza Tipo Ecco Non ci arrivo Manco Se mi pagano Mezzanotte e mezza No Nient'altro Sì Ma Lei va a letto Tard Vado a letto Presso Tipo Verso Le dieci Neanche No Per le dieci No Però Dipende Dipende Perché Dipende Da che punto Guardi il mondo Tutto Dipende Mi si imbarazza Poi In quale Posizione Dorme Allora Lei Praticamente Fai finta Questo È il letto Qua c'è la sua faccia Così E non si muove più Si sdraia Sper il letto E non si muove più Fino a che Non la svegli Il mattino Dopo In realtà Da piccola Mi volevo tantissimo Adesso la posizione È quella Si vede che mi giro Un pochino Ora non mi muovo tanto Adesso Da piccola Non ti muovi Sembri morta Non giuro Cioè il massimo Che fai È muovere il braccio E fare così C'è Allora Lei a ceci Dorme Allora Come cavolo faccio Tipo con le mani Così E con le gambe Così Prova alzarti In piede Nel tipo Noi in fondo Sì Non ti serve le luci Ecco Dorme tipo Così Però La cosa più bella Da guardare Quando vai a dormire Un po' spiattellata Così È la faccia Al di sopra Al di sopra Cioè Pancia sola Pancia giù Ah Pancia giù Mi sembra ovvio La cosa più divertente Da guardare È la faccia Che è sempre così Tu sei sempre giù La serie di Nickelodeon preferita La sua è Sam & Cat La sua è Carly E si sa L'arba dei tempi Che è Carly Però piacerà anche Sai cosa? Eh Fai 100 euro Ah beh sì È vero Sai che lo stanno rifacendo? Davvero? È un momento Mi capisco di Nickelodeon No ma non è su Nickelodeon Dov'è? È su Super Lo fanno No Oh Giuro Però presto lo fanno Tipo il pomeriggio presto Mi pare Però presto il pomeriggio presto Posso fare uno strappo La regola e guardarlo Se lo faccio come quest'estate Io non me lo guardo in stream Poi 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 Il cantante preferito Allora lei non ce l'ha? No Ha il suo è quello Del mese Ostia Ma Mi sembra dire Macklemore Ma non si chiama No Marnik Marnik Ascoltateveli Cioè Top Amo Ascoltate Supernova Dei Marnik Con Steve e Ioki E Sì Con la faccia In mezzo di minore Allora Marnik Steve e Ioki E Lil Jon Su Che si chiama Supernova Ascoltatevelo assolutamente Guarda cosa so fare A proposito di Supernova Cosa sai fare? Sò alzare un sopracciglio Ah Ma tu lo sai alzare di più No parlo che dopo Sembra che non lo riesco ad alzare Ha preferito Allora la Ceci ha una cotta momentanea per le scimmie Però in realtà è sempre stato il cavallo No perché Allora non è proprio una cotta per le scimmie Allora è una cotta per i cavalli Cioè sempre Per sempre Però dato che io sono una scimmia Devo amare la mia specie È giusto Mi sembra che Lei ama il panda Perché lei è un panda Io sono un panda In tutto il vero Mi sembra che gli occhi veri Guarda C'è anche i marroni Sono i cazzurri Mi scherziamo Occhio Vembrinzì 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 Ok Personaggio di Harry Potter preferito Allora Su è Lupin E il suo è Sirius Mi amore E dato che loro erano molto amici Ovviamente Ah io ne siamo molto amici È tutto collegato Ma è tutto su Sirius Ah va bene Portaglia da questa parte In cui ti dico che ti racconto un'emendoto Perché non frega Con la 18 Colore preferito Allora Il verde No L'azzurro Non proprio Il rosa No Il rosa lo sa che lo odi Sì brava Il colore Anche se in questo periodo Mi sta anche piacendo Però È il tuo odio rancoroso La sera Sì esatto L'arancione No Colore preferito Il verde alco ovviamente C'è C'è Invece il tuo è il Il giallo No L'arancio Sì C'era quasi Che mi sfuggiva Questa cosa L'arancio Lo sole Sì Se vuole prendere il coso Questa è la domanda più importante Di tutto Questo Video Andate a casa L'una dell'altra Se puzzate Io sì Anch'io Yeah Una volta C'è stata questa cosa Sarà la scella No una volta C'è stata questo Bellissimo Anedot Che io sono venuta qua Puzzando Perché Avevo finito Ginnastica Scuola E sono venuta qua E puzzavo Infatti Come vedete Non è la mia solita location Ma è tutta incasinata Ma vabbè Anche casa mia Era venuta qua puzzando Dopo scuola E niente Dopo La sera dopo Dovevamo Che Quella stessa sera Dovevamo andare a casa Di nostra amica Allora ho detto Vado a casa Prima che Vado a farmi la doccia Perché non posso andare a casa Dello Silvia Che è la nostra amica Puzzando Ciao Silvia Ciao Silvia Cioè si stai vedendo Vi salutiamo Con tanto amore E ci vediamo al prossimo video